Gioanin che qua Maria, vieni qua dalla ora, parla in gelata, fa vinta di voi che i lenienesi, loro parlano di milanese, la televisione a casa, non so, a 33, qui a Milano, qui c'è, c'è il Reggio, niente. I lenienesi di Milano, Gioanin che vieni qua con Maria, Maria, fai mandare la lavatrice, da masturbo, no? Gioanin fai mandare la lavatrice, no Gioanin, non fai male la testa, va bene, niente, vieni qua, Maria fai mandare la lavatrice, con le mie robe, con le mie espressioni, ho capito, niente, vieni qua dietro, Maria fai mandare la lavatrice, non fai mandare la lavatrice, non fai mandare la lavatrice, non fai mandare la testa, va bene, la sera andrà Gioanin nel vignacà, la sera andrà Gioanin nel vignacà, si aspetta a me, si cava sul capello, Maria la fa, Gioanin fai mandare la lavatrice, andate a spiace, me l'ha fatto il bucato a mano, non fai mandare la lavatrice, mi dèo, ma che fanno fotografia, mi tanti ziemi sелиpaper fine le q